C'è entrato bene? Oh c'è qualcosa, c'è qualcosa Finalmente nell'ultimo pacchetto Ciao macadoni E benvenuti in questo video che segna la fine di un'era Ragazzi siamo tristi, abbiamo direi quasi concluso Zenith regale Ci mancano 12 carte Che vi mettiamo qua, perché 6 sono del set quello base, le 159 carte 6 delle Galarian Gallery, quindi manca davvero pochissimo Ma soprattutto abbiamo deciso che questa sarà l'ultima spacchettata di Zenith Quella proprio grande, perché poi al massimo ogni tanto magari ci regaliamo una teen Ma tanto per direttirci E facciamo vedere cosa abbiamo preso Sono uscite le teen grandi con gli uccelli leggendari E vorrei far notare il mio meraviglioso cappello, un like per un bron Mi raccomando, un like per un bron Ragazzi non potevamo privarci di queste carte promozionali degli uccelli leggendari E che fai dei privi? Eccole qua, che sono davvero belle Ok, tu Moltres, io Articuno Vabbè dai prendo Zapdos Vedrai che Zapdos ti dà soddisfazioni dopo questa cosa Ma soprattutto voi sapete che noi eravamo alla ricerca di una carta Che carta ci serviva? Che trovavamo? Palchia Palchia Maso, oltre a Palchia che abbiamo trovato cercavamo? Lifion 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 alternativ che ci piace tantissimo Umbron Non ci sta in questo set magari Non ci perdiamo in chiacchiere, adesso troviamo questo Lifion Non voglio andare in giro a cercare Lifion C'è Lifion lì? Iniziamo a spacchettare la tin di Moltres di Galar Come vedete lei si è voluta mettere al centro oggi Proprio è stata la prima a mettersi seduta Eccola qui, la promo Lifion Lifion Il mio pacchetto Tommaso ha dichiarato la sua pull Diciamo pure che vorrei tantissimo leggiadria di Camilla Camilla no, di Camelia Camelia, facciamo vedere il codice Mi piace pure quella lì con tutte le rose Ah bella, quella però non è una cartona Però mi piace Vai, qua Chatù, Gloom, Amici Assinno, Lyron Energy Oh, Lifion V E poi Agron Reverse C'era il Lifion ma non era quello che cercavamo noi Iniziamo benissimo con questo Lifion V Bravo Totto Bisse E lui Umbreon, ce l'ho con Umbreon Eh, se sono sbagliati, hanno messo Umbreon in Zerub Ti faccio spacchettare evoluzioni eterie se vuoi eh L'hai soffiato sul mio Destino Codice per voi Bisse Umbreon Umbreon C'è l'ho con Umbreon oggi Mister Mime Di Galad Di Galad Martello di rompente Di Galad Shai Min Amin Fratelli Vanghi Spalla Segnalino Biastro E poi... C'è qualcosa? Sì Eh, Viacu L'h convention Lun 60 Ah Eliolisc Ah ricerca di energia reverse Male Male Vai Pá página Pá página Pá página Pá página Eternatus Lucente E Namorus Speriamo che non fosse quella la bull Perché se no ste teen partono male Ve lo dico Considerando che Pikachu invece al primo pacchetto Ci ha regalato la gold di Dialga Mamma Codice per chi se lo piglia Totto sbircia No Totto non sbirciare Ho visto totosa Questa è parta Energia Metang Graveler Aaron Riolo Ma che vede Spider Marip Pikachu E' centrato bene? Regalato l'ottavo Ottavo Pikachu Non c'è entrato benissimo Ma ci piace Beh 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 Ci siamo rifatti alla fine Stai tirato su giusto il Pikachu Perché Il resto malino eh Eccole qua le pull di Moltres E adesso passiamo a Zapdos Secondo me Zapdos ci darà delle soddisfazioni Perché non mi piace Quindi vedrai che ci darà delle soddisfazioni Seduta Andiamo ad aprire la tin di Zapdos Bella Bella Queste promo meritano molto E' carinissima Sta correndo Regà Sembra Pipip E sta correndo dietro a un Dodrio Davvero bella 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 Si vedono solo due test Tra l'altro Andiamo A prendere i pacchetti Mamà Ciao Mi dai lo pacchetto il Pikachu Questo è il codice Non svirciare Fa il trick E si parte Vai Come la madre Lui voleva sempre guardare prima Whale mare Whale world Whale world Crocorog Lunatone Whale Energy Ricerca accademica E compi Doppia pull per Tommaso Si inizia benissimo con Zapdos E adesso passiamo al secondo pacchetto Comunque ricerca accademica L'avremmo trovato a 200 Codicino Guarda Come sbircia Senta che non sai altro Oh c'è qualcosa C'è qualcosa C'è Ho visto Vai 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 C'è un Pikachu Nattro Vulu Nattro Vulu No Eccolo Vulu Vulu che ci manca a reverse Ci manca a reverse ragazzi Shinx Panchan 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 Snorant Pugnart Oh Luxray Reverse E Atterine Vimax Bella Altra pull per Tommaso Quindi Zapdos Va molto bene Procede Vediamo se i nostri c'hanno qualcosa Perché secondo me Vado prima io dai Come sempre codice per voi Perché Noi siamo generosi ragazzi Voi siete generosi Avete lasciato un like Vi siete iscritti Segnalino viastro Che di solito vuol dire Martello di rompente Martello di rompente Luxio Trolle di salvataggio Rockraff Aaron Triolu Starly Sider Sider Ora Anguru Reverse Link Ragazzi Mi sa che Totto ha già preso tutto Io sbircio No Ragazzi Malissimo per ora Non gratta Energia Gloom Ultra ball Martello di rompente Sto martello lo troviamo spesso Pocke ball Iungus Che rubi Ma io di solito non rubo Execute Dragalga che ci mancava Ma l'abbiamo trovato Oggi E Attenzione Scyzor 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 Vabbè Ragazzi Zapdos Solo tre pull Mezzo auto Peggio di Moltres Quindi Andiamo avanti Adesso è il turno di Articuno Articuno È bello Galar Anche di mamma Attenzione Tommy Ha fatto la sua scelta Questa secondo me Ragazzi È una delle promo Più belle Che abbiano fatto Una delle carte Più belle Che abbiano fatto Ma proprio in generale Negli anni È stupenda Sapere che è una promo E quindi accessibile a tutti È molto bello È meravigliosa Cioè io Veramente L'avrei cercata Sì è vero Invece Ce l'abbiamo Quindi bene Te ne do due amore mio Ma faccio così però Due amica Totto Scegli un pacchetto Papà Scegli un pacchetto Questo E Totto Prende questo E prende questo Ok Chi inizia Io Tottosa Riolu Lunatone Bisharp Caramella rara Segnalino viastro E poi Pangoro Ah no Reverse Ci manca Lo risultato Inutilmente Luxray Niente ragazzi Primo pacchetto Vuoto Papà Ragazzi Potrebbe essere L'ultimo pacchetto Che apriamo di Zenith Ci mancherà Zenith regale Probabilmente sì Nel frattempo Vi lascio un codice E mi avvio Per il mio ultimo Pacchetto di Zenith regale Vogliamo prendere Il pacco di Zama Zenith e Zashan Quello con le spillette Però non li apriremo No Prendiamo da parte Perché mancano davvero Così poche casche di Zenith Che conviene comprarle Energia Scambio di energia Croc croc Ultra ball Shinx Larvesta Oddish Seal Yamega E poi Executor Ah regà Malissimo Due pacchetti vuoti Ci spera So perché Che è successo Non abbiamo mai soffiato Regà Soffia Dio Soffia No no Soffia lui Lui è quello fortunato Che soffi tu Io alito Codice per voi Ma posso dire Che quello del secret piga Ce l'aveva soffiato la vigna Ultimo pacchetto di totto Biduff Biduff Croc croc Cocolo Energy Venite abbracciamoci Lipard E miù E vai Miù che dorme Finalmente Nell'ultimo pacchetto Trova la carta Di cui avevi sempre parlato Amore Miù che dormi E' centrato Regà E' centrato Anna Quello bello Ma questo non si vende Non si vende No ma non si vende questo Questo lo mandiamo a gradare Bravo Bravo Tommaso Questo lo mandiamo e lo voglio nel quadro Sì sì Me l'ha trovato lui Finora Unica pool E' questo Miu che dorme Ma ci riteniamo Dai molto soddisfatti E abbiamo ancora l'ultima speranza Ragazzi Ultimo pacchetto Non ho guardato Questo è il codice Per voi Ci abbracciamo Ha soffiato Un po' che sento Se è gratta No Non sentire No Ultimo pacchetto di zenith Mamma Non guardare Energia Lotta Caramella rara B sharp B sharp Come si chiama adesso Me o di galar Biala o di galar Miau Bravo Di galar Reguvero energia Biala o di galar Oh brilla 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 Ma che stai dicendo Vale Noi brillano tutti Oh sembra Vai piano 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 Gloom Brilla Brilla Pikachu 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 E' rarissimo Rarissimo Due Tin Con Pikachu Regà E' centrato Non ci credo Non abbiamo trovato Lifion E abbiamo trovato Due Pikachu Amore questo è centrato Mamma Vai Ma vedi La pagina Di Pikachu Si e possiamo dire Abbiamo completato La pagina di Pikachu Nove Pikachu Per noi E niente ragazzi Abbiamo finito Questo spacchettamento Di zenith regale Che ci ha tenuto Compagnia per tantissimo Tempo Adesso in attesa Di Scarlatto e Violetto Che ci vedrà Protagonisti Quindi per a quando Iscrivetevi Noi magari faremo Dei video Dove vi faremo Vedere i nostri album Che album Volete vedere Zenith Tempesta Quello di Fefe Quello di Totto Il Vintage Commentate qui sotto Ringraziamo zenith regale Ringraziamo Totto E la vigna Per lo spacchettamento Comunque il secret Pikachu Regà Cioè Due Due Rarissimo E adesso Dobbiamo andare a caccia Delle 12 carte Mancanti Però Le compreremo Scriveteci qua sotto Se ce la avete Magari ci mettiamo D'accordo Noi vi salutiamo E ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Ciao